Come to Luspio, go everywhere! E' questo lo slogan scelto dalla Luspio, Libera Università degli Studi Internazionali, per inaugurare l'Open Day 2013. Mercoledì 10 aprile, infatti, l'Ateneo apre le porte alle future matricole con una giornata di orientamento finalizzata a rendere nota l'offerta formativa dell'anno accademico 2013-2014. Internazionale per vocazione, la Luspio avvicina le culture realizzando corsi di laurea per interpreti, traduttori ed economisti destinati a vincere le sfide del mercato globale. Tre le facoltà che compongono l'offerta formativa dell'Ateneo, interpretariato e traduzione, economia e scienze politiche. I corsi di laurea che verranno introdotti e presentati durante l'Open Day sono i due corsi di laurea triennale in lingue per l'interpretariato e la traduzione e in scienze economiche delle organizzazioni aziendali e i tre corsi di laurea magistrale in interpretariato e traduzione, lingue e letterature moderne europee e americane ed economia e management internazionale. Un'offerta ampia che comprende anche la formazione post laurea con master di primo e di secondo livello altamente professionali oltre alla possibilità di usufruire di numerosi accordi di scambio studenti con alcuni tra i più prestigiosi Ateneo internazionali. L'appuntamento con l'Open Day 2013 è previsto per il 10 aprile alle ore 10 nell'Aulamagna dell'Università, sita in via Cristoforo Colombo 200. Per maggiori informazioni consultate il sito www.unint.eu